Buonasera, benvenuti a 8 e mezzo, buonasera, benvenuta Valeria Golino, attrice e regista, da domani nelle sale con un nuovo film. Buonasera Riccardo Molinari, capogruppo dei deputati della Lega, buonasera Marco Travaglio, direttore del Fatto Quotidiano. Buonasera. Allora oggi ancora record di contagi e Conte alza il livello di allarme ma la Lega contesta la proroga dello stato di emergenza decisa dal governo. Subito dopo la pubblicità. Marco Travaglio, il Premier Conte alza il livello di allarme. Il Ministro Speranza ha detto che lavora giorno e notte per evitare un nuovo lockdown e tutto ciò nel giorno in cui abbiamo un forte balzo nel numero dei contagi. Eppure la Lega contesta lo stato di emergenza che è stato prorogato fino al 31 gennaio. Secondo te porta voti? Non credo a giudicare dalle ultime performance della Lega. Io non credo nemmeno che si tratti di discutere, nel senso che basterebbe capire che cos'è lo stato di emergenza, che non coincide minimamente col concetto di pieni poteri che nessuno, a parte Salvini, ha mai né voluto né ottenuto. Lo stato di emergenza è una misura di protezione civile prevista da una legge del 1992 che viene presa in occasione di calamità naturali. È stato proclamato in Italia alla fine di gennaio quando avevamo zero morti e due contagiati in tutta Italia. Ci mancherebbe altro che non venisse prorogato nel momento in cui abbiamo 3.600 nuovi contagi in un giorno e una ventina o trentina di morti al giorno. Andiamo purtroppo, visto che l'aumento è esponenziale, verso numeri di casi e numeri di morti sempre maggiori in questa seconda ondata. Quindi io francamente non riesco a capire di che cosa si sta parlando. Lo stato di emergenza non c'entra nemmeno con i DPCM, che vengono evocati come se fossero una novità del Covid. Il DPCM è un decreto attuativo ministeriale che si chiama decreto ministeriale se lo firma un ministro, decreto del Presidente del Consiglio se lo firma un Presidente del Consiglio. Ed è figlio di una legge o di un decreto regolarmente approvata dal Parlamento italiano. Se il Parlamento italiano vuole il DPCM non ha che da bocciare i decreti e le leggi del Governo. Il Governo non solo non fa più il DPCM, va a casa. Quindi ciascuno si assuma la sua responsabilità. L'importante è non dire che ci sono i pieni poteri e che il Parlamento è esautorato, perché il Parlamento ha appena autorizzato la proroga dello stato di emergenza. Allora, onorevole Molinari, vuole spiegare a Travaglio perché siete contro la proroga dello stato di emergenza e nel merito delle decisioni del Governo che cosa non va bene? L'uso della mascherina anche all'aperto, il divieto di assembramenti, che cosa fareste voi di diverso? Travaglio ha indicato correttamente dal punto di vista giuridico cos'è lo stato di emergenza in Italia. Il problema è l'uso che ne è stato fatto durante la pandemia e l'uso che temiamo che continui a esserne fatto in futuro. E questo guardi, non lo dice Salvini o la Lega, questo l'ha detto la Presidente della Corte Costituzionale, Cartabia, quando ha fatto presente mesi fa che non esiste uno stato di emergenza nel diritto italiano tale da permettere un superamento di quella che è la dialettica parlamentare e di quello che è il rapporto che deve esserci. Molinari, mi scusi se la interrompo solo un secondo. Ma che cosa fareste voi di diverso? Cosa contestate di questa gestione della pandemia? Adesso, per esempio, sbaglia il Premier Conte a chiedere che quando si esce si porti con sé la mascherina e che poi venga anche indossata salvo in alcune rarissime eccezioni. Sono due argomenti diversi, un contro lo stato di emergenza e un contro sono le misure sul Covid. Ma lei risponde alla mia domanda e poi lo stato di emergenza. Ho capito, ma lei però mi ha fatto una domanda prima e non ha finito di risponderle, quindi le spiego perché non abbiamo votato lo stato di emergenza e poi le rispondo sulle mascherine. Noi non abbiamo votato lo stato di emergenza perché un conto sono le misure sanitarie su cui si può discutere e noi votavamo su quello. Noi avremmo dovuto dare un indirizzo sul DPCM che riguarda, ad esempio, l'introduzione dell'uso delle mascherine all'aperto. Questa è la novità del DPCM ultimo e su questo le posso dire che il nostro punto di vista è che le mascherine servano sempre, servono a contenere il contagio. All'aperto è il caso di utilizzare nel momento in cui ci sono altre persone, come dicono illustri i virologi e infatti il governo sembra andare in questa direzione. Mentre invece il ministro Speranza aveva lasciato aperta anche l'ipotesi che la mascherina fosse utilizzata sempre all'aperto e che potessero esserci nuove strette anche sulle chiusure dei locali, cosa che non ci sarà. Quindi sul DPCM le dico che fondamentalmente non abbiamo niente in contrario rispetto a quello che è stato fatto. Quello su cui siamo contrari è che si è usato il voto in Parlamento sul DPCM per avvallare surrettiziamente la scelta di prorogare lo stato di emergenza, cosa su cui noi avremmo voluto ascoltare il governo, ascoltare il premier Conte e capire quali erano le motivazioni per questa proroga. Perché quest'estate ce l'ha spiegato, serviva a fare gli appalti per comprare i banchi e per riaprire le scuole. Adesso vorremmo capire, visto che nulla c'entra come ha detto Travaglio con la gestione sanitaria, perché prorogare lo stato di emergenza. Questo non ci è stato spiegato e quindi non abbiamo votato il provvedimento. Valeria Golino, lei si sente protetta in questa fase così delicata e pensa che il governo stia abusando un po' dei suoi poteri? Guardi, io non mi sento così. Mi sento protetta quando ho la mascherina. Soprattutto mi sento protetta e mi sembra di proteggere con la mascherina i più deboli, le persone, i malati cronici, le persone che prendono i mezzi, la sanità pubblica, le persone che comunque sarebbero più evidentemente colpite da questa... oltre che me, chiaramente. Oltre che me. Quindi sono esausta un po', sì. Qualche volta mi nervosisco, mi sembra appunto che le nostre vite, perché è così, viviamo questo momento, insomma è un po' estraniante per tutti noi, esistenzialmente proprio. Come cittadini siamo tutti un po' sollecitati in allarme in continuazione, è vero, ma la mascherina la metto, mi dicono di mettere lo faccio, perché io penso che tra le migliaia di cose che si sono dette rispetto a questo virus, rispetto alla prevenzione, tutto il contrario di tutto, lo sappiamo, insomma tutto quello che è successo nell'ultimo anno. Questo è una certezza, la mascherina ti protegge e protegge, quindi se in questo momento c'è un aumento di contagi, è chiaro che le poche certezze che abbiamo, sia individualmente che come popolo, io come dire, ci sto, ci sto, sono stanca, ma ci sono, lo faccio, sì sono obbediente. Marco Travaglio naturalmente anche tu sarai obbediente, lo sei sempre stato in questi mesi, immagino, tu oggi hai scritto un editoriale diciamo molto duro nei confronti del leader della Lega Salvini, hai scritto che non è a zecca una, sia un po' sputtanato e ogni suo comizio è un cluster, però la Lega è il primo partito d'Italia. Assolutamente sì, infatti non è che il mio giudizio collimi con quello degli elettori e dato che siamo in democrazia hanno ragione gli elettori e quando gli elettori dicono il contrario di quello che dico io hanno ragione loro nel senso che è giusto che chi prende più voti abbia più seggi e quindi se Salvini manterrà questa percentuale che gli danno i sondaggi e che gli hanno dato le ultime elezioni, sarà il primo partito il suo in Parlamento e avrà il maggior numero di seggi, non c'è niente di male, è giusto così. Io penso che da quando ha fatto cadere il governo di cui faceva parte nel famoso 8 agosto del 2019 abbia imboccato una parabola discendente che è segnalata dal calo dei sondaggi perché è vero che oggi sta al 24% ma io ricordo che poco prima delle elezioni europee i sondaggisti lo davano al 40. Il rapporto con i suoi alleati era distanze abissali, adesso ha la Meloni che comincia a soffiargli sul collo, i partiti che prima erano molto distanziati adesso sono ravvicinati, il PD a 4 punti, i 5 stelle secondo i sondaggi sono a 6 a 7, la Meloni è alla pari dei 5 stelle quindi uguale, quindi è cambiato qualcosa. Secondo me Salvini non riesce a cambiare musica o per essere eleganti, narrazione, storytelling, ha passato mesi e mesi anche quelli del lockdown a parlare di migranti e abbiamo scoperto dagli ultimi sondaggi che sono una delle ultime preoccupazioni degli italiani perché nel frattempo il mondo è cambiato, il Covid ha cambiato il mondo, ha cambiato il nostro modo di sentire, di pensare quindi anche chi magari in buona fede pensava all'invasione dei migranti che poi non c'è mai stata ma insomma così veniva evocata, adesso ha altre paure più impellenti e altre esigenze più impellenti e lui fatica a rimodulare la sua narrazione rispetto al sentire nuovo delle persone. Questa secondo me è la ragione della sua crisi ed è anche probabilmente la ragione del fatto che i risultati delle ultime amministrative lo danno in forte difficoltà al Sud che era una grande sua speranza quella di sfondare al Sud ma persino nella sua Lombardia comuni roccaforti tradizionali, pensiamo a Legnano che ha una valenza anche storica, la battaglia di Legnano, Saronno e altri posti tipicamente leghisti li ha persi quindi Giorgetti ha detto inutile chiamare vittorie le sconfitte, bisogna domandarsi che cosa sta succedendo. Non so se la ricetta di Giorgetti sia quella giusta, cioè quella di spostarsi al centro, andare verso il Partito Popolare Europeo, quello non lo so e forse penso anche che non sia così, però penso che la Meloni essendosi meno consumata al governo in questo momento sia più sintonizzata per un pubblico di destra alle esigenze, infatti non ho mai sentito la Meloni polemizzare contro le mascherine, mentre Salvini metti, togli, metti, togli, alla fine credo che abbia perso terreno anche per quello. Onorevole Molinari, Salvini ha perso un po' la sintonia con il Paese e quando Travaglio dice Salvini non riesce a cambiare musica, a cambiare la narrazione, lo storytelling, chiamiamolo come vogliamo. Ha ragione perché in fondo è un po' quello che dice anche il vostro numero due Giorgetti, che bisogna essere più moderati, andare un po' più verso il centro e soprattutto diventare più filo europei. Lei pensa che Salvini possa gestire questa fase così difficile per voi della Lega. Io penso che Salvini abbia avuto il merito di prendere un partito che viaggiava su percentuali che esageravano tra il 4 e il 5 e il 6 per cento e averlo portato stabilmente da due o tre anni a essere il primo partito d'Italia. Quindi se perdere consenso vuol dire essere accreditati nei sondaggi intorno al 25 e 26 per cento come primo partito italiano e alla fine della fiera, dopo le elezioni regionali, aver portato a casa più regioni di quelle che si amministravano prima, ditemi dove devo firmare. Ma l'ha detto Giorgetti che avete perso le amministrative Molinari. Arrivo, arrivo, arrivo. Alle amministrative sicuramente in alcuni ballottaggi le cose potevano andare meglio. Scinderei gli aspetti. Per quanto riguarda il Sud la spiegazione è molto semplice. Il voto dell'Europa è un voto politico, è un voto di opinione. La Lega come tutti sanno al Sud non è radicata, si è presentata alle elezioni regionali e amministrative in alcuni comuni e alcuni territori per la prima volta e dovendo costruire una classe dirigente nuova, un radicamento nuovo, è evidente che nelle elezioni dove ci sono le preferenze e dove c'è un contatto diretto col territorio, in quei territori siamo più sguarniti. Quindi la spiegazione che diamo è quella. Per quanto riguarda invece un calo dei consensi o comunque un risultato sotto le aspettative in altre zone dove storicamente siamo più forti, è chiaro che dobbiamo fare un'analisi, che dobbiamo fare un'autocritica su quello che è successo, restando però consapevoli del fatto che siamo il primo partito italiano e che anche Fratelli d'Italia, che veniva presentato come il partito che avrebbe sfondato soprattutto al centro-sud, è stato dietro alla Lega anche al centro-sud, perché questo va detto. Tolta la Puglia, dove avevano il candidato presidente Fitto, dalle altre parti è stato dietro alla Lega. Quindi questo sfondamento della destra all'interno del centro-destra non c'è stato e Salvini resta il leader del centro-destra e il leader del primo partito italiano. Ma sa che in queste ore è in corso anche una riunione di Totti, il governatore della Liguria, Mara Carfagna e altri di Forza Italia che vorrebbero mettere invece in discussione la leadership di Salvini. Comunque lei pensa che Salvini resti il leader giusto per gestire questa situazione. Le volevo ancora aggiungere una cosa su Trump. Io penso che Totti possa portare un valore aggiunto. Io penso che Totti e la Carfagna possano portare un valore aggiunto. Se nasce un nuovo soggetto più orientato al centro che rafforza il centro-destra anche per contenere l'emorragia di voti di Forza Italia, penso che possa fare soltanto bene al centro-destra. Non è una preoccupazione. Ma la Carfagna non mi sembra molto filo salviniana, però magari mi sbaglio vi metterete d'accordo. Senta, ma voi della Lega... Qualcuno prende più voti. Per voi, certo, per voi della Lega, il Presidente Trump resta un esempio da seguire? Beh, dipende su che cosa. Partiamo dal presupposto che la politica americana è molto diversa dalla nostra. Se vuole la mia opinione, l'atteggiamento di Trump, ad esempio sul Covid, è eccessivo e per quella che è la mentalità italiana e per quella che è la nostra storia, non è replicabile da noi. Qui c'è un valore della vita, della salute pubblica, che è una concezione completamente diversa dalla loro. Quindi su come si sta ponendo rispetto al Covid non penso sia un esempio. Su alcune linee politiche ed economiche che ha messo in campo per affrontare l'emergenza Covid invece mi piacerebbe avere un governo che si è mosso come quello americano e soprattutto mi piacerebbe avere un'Europa con una banca centrale come la Fed rispetto alla BCE. Quindi iniezioni di liquidità, investimenti pubblici, aiuto alle imprese, liquidità, tutte cose che in Europa non ci sono potute fare e che Trump ha fatto. Quindi dipende sotto quale punto di vista. Da punto di vista della politica economica sì, da punto di vista della politica sanitaria no. Vabbè, lo dica naturalmente anche il suo leader Salvini a proposito di mascherine su, giù, i cluster nelle zone dove è andato a fare comizi eccetera. Beh, i cluster, però la campagna elettorale l'ha scelto Salvini, la data delle campagne elettorali. Voglio solo ricordare che la banca centrale europea proprio anche in questo frangente dell'epidemia ha fatto tantissime cose, ha altri strumenti della Federal Reserve per ovvi motivi, perché l'Unione Europea è diversa dagli Stati Uniti d'America. Valeria Golino, è sul coronavirus che Salvini ha cominciato la parabola discendente o non è una parabola discendente e sarà il leader giusto anche per gestire il post-coronavirus fermo restando che ci siamo ancora in mezzo. Ma io probabilmente credo che abbia inciso il Covid e tutto quello che ne è stato sulla sua parabola discendente. Sì, penso che non sia al suo più scintillante decisamente adesso. Poi che cosa succederà in futuro? Non lo so. Però sì, in questo momento la percezione dal di fuori è che sia meno... Anche perché poi le persone hanno paura. Hanno paura. Cioè anche in un motivo credo per cui gli italiani sono stati abbastanza bravi, rigorosi. Perché c'è la paura di ammalarsi e di far ammalare? Gli ultimi sondaggi, lo ricordiamo, dicono che quasi l'80% degli italiani ha ancora paura del Covid. Assolutamente. Quindi io penso che questa cosa lo abbia messo in difficoltà senza dubbio, nella percezione che si aveva di lui, sì. Marco Travaglio, due questioni. Una, la prima, e torno a quello che ha detto Conte poco fa, che ha detto che vuole un nuovo rapporto fra Stato e Regioni e che le misure restrittive, loro possono decidere misure più restrittive, ma non depotenziare quelle che invece ha deciso il Governo centrale. La prima questione. La seconda, se Salvini deve essere più preoccupato per il processo a Catania per la nave Giorgetti oppure per le inchieste lombarde che riguardano la Lega? Gregoretti. Dicevi, se deve essere più preoccupato per il processo oppure? Per il processo oppure per le inchieste lombarde che riguardano la Lega? Sicuramente per le inchieste lombarde, perché le inchieste lombarde non sappiamo dove andranno a finire, ma riguardano questioni di soldi. E la Lega, come ricordava giustamente prima Molinari, era già precipitata una volta al 4-5% per questioni di soldi, soltanto che riguardavano quegli scandali la gestione Bossi. Mentre adesso, se questi scandali fossero confermati ed arrivassero a conclusione, riguarderebbero le gestioni più recenti. Quindi sicuramente per quello, perché io ho sempre scritto che il caso Gregoretti è un caso, secondo me, un grave errore politico e anche una grave mancanza di umanità nei confronti di quelle persone che se fossero scese due o tre giorni prima non sarebbe successo nulla, sarebbero state redistribuite nei Paesi europei come era avvenuto già altre decine di volte nei mesi precedenti, però non credo proprio che il reato di sequestro di persona si attagli a quel comportamento, perché il sequestro di persona vuol dire che tu sei costretto, chiuso in un posto da un sequestratore. Quei migranti erano su una nave che se voleva poteva cambiare rotta e andare a cercare altri porti. Quindi non credo che per Salvini quel processo lì provocherà una condanna, magari mi sbaglio perché non sono io a giudicare e non sono nemmeno un fine giurista, però a occhio direi che le sue preoccupazioni dovrebbero indirizzarsi sulle inchieste lombarde che riguardano molti personaggi anche poco conosciuti ma molto vicini a lui e agli uomini vicini a lui. L'altra domanda, non me la ricordo... È quella sul rapporto Stato-Regioni che il Premier Conte ha detto stasera che possono fare misure più severe ma non possono depotenziare quelle decise a oggi dal Governo? Credo che questo sia un giusto avvertimento per evitare le fughe in avanti che abbiamo vissuto quest'estate e che ci sono costate caro. Meno caro rispetto a quelle che sono costate ad altri Paesi che hanno passato un'estate molto più allegra della nostra. Ma se alcune regioni avessero evitato di riaprire le discoteche probabilmente oggi i numeri sarebbero un po' più bassi, visto che stiamo pagando ancora lo scotto dell'estate, non certamente lo scotto della scuola perché al momento i dati della scuola sono infinitesimali. Quindi penso che sia giusto che in questa nuova emergenza, dove temiamo, come diceva Valeria, di ammalarci e anche di morire, ma temiamo anche il nuovo lockdown. Mentre l'altra volta non lo temevamo perché non ce lo aspettavamo e ci siamo trovati dentro. Stavolta c'è la paura di tornare in lockdown con tutte le preoccupazioni economiche che probabilmente sarebbero letali. Quindi credo che sia giusto avvertire le regioni che se vogliono aggravare certi divieti lo possono fare, ma se vogliono addolcirli non lo possono fare. La babele che abbiamo vissuto quest'estate non la possiamo più vedere, credo che non ce la possiamo permettere, sarebbe un danno per la salute ma anche per l'economia. Onorevole Molinari è un bene avere fatto chiarezza stasera da parte del Premier Conte sulla questione del rapporto Stato-Regioni a proposito delle misure restrittive e sulle inchieste della Lega. Quanto è preoccupato lei? No, guardi, noi non siamo preoccupati anche perché, ripeto, non siamo noi nei tribunali e nelle procure quindi non sappiamo che esistono avranno, ma le posso garantire che durante la campagna elettorale, e io come tanti altri, ho girato tutta Italia, non ho trovato una sola persona che mi chiedesse di commercialisti o di camici, quindi la cosa non ci preoccupa e insomma la Tiglio Fontana ha già dato tutte le spiegazioni che doveva dare, siamo molto fiduciosi che si concluda tutto per il meglio. Per quanto riguarda il rapporto tra Stato-Regioni noi riteniamo ovviamente abbiamo un'idea diversa, per adesso non ci sono misure particolarmente restrittive perché le misure che sono in vigore adesso sono le misure sul distanziamento, le mascherine, quindi cose condivisibili e condivise da tutte le Regioni, diverso è stato in altre fasi. Nella fase dell'emergenza c'è stata una conflittualità tra Stato e Regioni e anche una disorganizzazione che ha portato invece a danni seri, perché ricordo quando è stato dichiarato il primo Stato di emergenza a gennaio non è partito l'avviso dalla Presidenza del Consiglio, dal Governo alle Regioni di iniziare a rifornirsi di DPI, di respiratori, di macchinari e sono persi due mesi che sarebbero stati molto importanti e sono lasciate poi le Regioni allo sbando in piena emergenza con una protezione civile nazionale che invece che aiutare andava a sequestrare il materiale sanitario ordinato da una o dall'altra Regione per ridistribuirlo. Ci auguriamo che questo non capiti più. Per quello che riguarda le limitazioni Covid, ripeto, per adesso le restrizioni non sono tali da destare preoccupazione. Certo che se dovessero arrivare da Roma delle imposizioni sulla chiusura dei locali, la chiusura delle attività economiche, se non si vuole dare la libertà alle Regioni, deve essere chiaro però che qualcuno deve risarcire queste attività economiche, perché diversamente chi non morirà di Covid morirà di povertà. Marco Travaglio, stanno così le cose come ce le ha descritte l'Onorevole Molinari? Ma non tutte le Regioni sono uguali. Noi se avessimo tutte le Regioni alla stregua del Veneto che si è affidato un po' per l'umiltà di Zaia, un po' per la forza dirompente di Crisanti a politiche che restringevano ulteriormente, cambiavano addirittura i protocolli nazionali per renderli più stringenti al punto da fare i tamponi anche agli asintomatici per la prima volta. In Italia noi non dovremmo preoccuparci delle Regioni. Il problema è che abbiamo anche un sacco di Regioni in mano a personaggi molto più improbabili e molto meno affidabili e quindi io mi auguro che questa volta non ricominci la rincorsa al peggio, ma semmai cominci la rincorsa al meglio. È anche abbastanza stucchevole questo giochino per cui le Regioni quando la loro sanità va bene dicono che la sanità è regionale e quindi è merito loro. Quando la sanità ha dei problemi perché si dimentica di fare gli appalti per le forniture oppure li sbaglia come ha appena fatto la Lombardia che adesso è costretta a pagare i test 5 volte il loro prezzo di mercato, 26 euro anziché 5 euro, perché nel Lazio si pagano 5 euro, in Lombardia li pagano 25, ci sarà un motivo e qualcuno spero che prima o poi ne risponderà perché sono soldi dei lombardi, allora a quel punto uno si augura che le Regioni vengano ricondotte a più miti consigli, perché ripeto questa volta il lockdown è stato già una catastrofe per l'economia, ma un secondo lockdown sarebbe veramente letale e quindi bisogna fare tutto il possibile per evitare di ripiombarci dentro e tutto il possibile è quello di ricondurre a unità questi sedicenti governatori, molti dei quali non hanno la più palida idea di che cosa sia la salute pubblica. Sì, quindi dobbiamo essere tutti più responsabili. Abbiamo aperto la puntata salutando per prima Valeria Golino ricordando che da domani sarà nelle sale il suo nuovo film il cui titolo è Lasciami andare per la regia di Stefano Mordini. Guardiamo un piccolo trailer. Mi chiamo Perle Gallo, mi sono trasferita a Venezia dagli Stati Uniti tre anni fa e due anni fa ho comprato una casa a Calle San Francesco della Vigna dove lei abitava con sua moglie. E quindi? Sì, non so da dove cominciare. Non so, vedi un po' di acqua e limone, un bicchierino grazie? Lei ha perso un figlio, vero? Valeria Golino, Lasciami andare, in che ruolo la vediamo, la vedremo in questo nuovo film? Un ruolo di antagonista, quindi lo dico con gioia, che mi capita raramente di farne, cioè il protagonista che è Stefano Accorsi, tra l'altro ci sono anche Maya Sansa e sono... Ma è una storia, c'è mistero, c'è... Sì, è un thriller, praticamente, sovranaturale, però è anche... è riuscito Stefano Mordini che è un regista con cui è bellissimo lavorare, tra l'altro, e questo si sente quando vedrete il film, se lo vedrete gli attori sono particolarmente bravi in questo film, è riuscito a fare un connubio tra un thriller, è appunto misterioso, ma anche un film sulla perdita, un film, come diremo... Sull'elaborazione del lutto, no? Sull'elaborazione del lutto, sì, e sulla... sulla solitudine, è molto bello da vedere, è molto... così... fa anche paura, fa anche paura, però... fa più paura quello che ti fa sentire. Della storia in sé. Quindi, insomma, lasciami perdere... No, lasciami andare. Lasciami andare, stasera è la mia serata dei lapsus, lasciami andare, il nuovo film in cui vedrete Valeria Golino e adesso vi faccio vedere il punto di Paolo Pagliaro, perché nell'emergenza, c'è l'emergenza scuola che è un... che ha al suo interno un'altra situazione molto molto seria. Guardate il punto. L'Italia è stato il primo paese a credere nell'integrazione scolastica dei ragazzi disabili, lasciandosi alle spalle i ghetti delle classi differenziali abolite sul finire degli anni settanta. Allora si scommetteva su una scuola capace di aiutare anche gli alunni più deboli a crearsi un autonomo percorso di vita, ma oggi quel progetto riformatore rischia di naufragare, travolto dalla disorganizzazione, dall'insufficienza delle risorse, dalle procedure cafchiate, con cui in Italia si reclutano gli insegnanti. Nei giorni scorsi alla riapertura delle scuole la condizione dei disabili si è rivelata un'emergenza nell'emergenza. Migliaia di ragazzi sono stati rimandati a casa perché non c'era l'insegnante di sostegno e circa 160.000, cioè il 60% del totale, non hanno più trovato il docente che li aveva seguiti l'anno scorso, il che se possibile è ancora peggio. Ora si correrà ai ripari con un concorso ad hoc, ma il danno per quest'anno è fatto. Nei mesi scorsi ci sono state ben tre sentenze, due del Consiglio di Stato e una della Corte Europea dei diritti dell'uomo, che hanno censurato l'operato dell'Italia in materia di alunni disabili. Le tre sentenze hanno riaffermato il principio che l'integrazione dei disabili è un dovere dello Stato, suscettibile di imporsi anche sulle necessità di bilancio e che l'inclusione di alunni disabili è necessaria anche ai non disabili, perché l'esperienza della diversità sociale fa parte della scuola. Ma infine ha ricordato che le politiche per l'inclusione scolastica sono tra quelle che l'Europa finanzia con il Recovery Fund. Siamo in chiusura, grazie Marco Travaglio, grazie onorevole Riccardo. Errata Corrige, ho fatto un lapsus anch'io, ho parlato di test pagati il quintuplo, invece sono i vaccini anti-influenzali, me l'hanno fatto notare che io li volevo evitare. Perché il mercato è saturo però, diciamolo, comprati con regolare a gara e visto che il mercato è saturo costano di più. E per tutta la Lombardia ha acquistato tutti i vaccini prescritti dal Ministero per le fasce deboli e le categorie a rischio, tanto per spiegare a chi ci ascolta. Però li paga il quintuplo. Cosme, insomma adesso non possiamo riaprire questo dibattito, stasera è la serata dei lapsus, però adesso non lo rifarò. Grazie Valeria Golino, ricordo il suo nuovo film Lasciami Andare per la regia di Stefano Mordini da domani nelle nostre sale cinematografiche. Grazie e in bocca al lupo. Grazie spettatrici e spettatori, vi lascio a Andrea Purgatori e al suo Atlantide dal titolo Fuori controllo sull'emergenza Covid. E noi come sempre ci vediamo domani, notte e mezzo. Arrivederci.